L'artista esistenzialista, buonasera da tutti, notizie delle ultime ore di qualche ora fa e dalle quali ho avuto, conferma, ripeto, contattimi in quel di Roma, ma non soltanto da Roma accelerata Juve per Milinkovic Savic io attualmente direi un 70%, sono cifre abbastanza alte, nel senso che Manchester United, Paris Saint Germain, Juventus, le altre sono un pochettino chiamate fuori signori, il Manchester United non ha più appeal della Juve, dipenderà da Fogba e quant'altro ora, sicuramente il Paris Saint Germain ha più cash, ma ripeto, la pilla attuale della Juve credo che per la prospettiva futura, i 100 anni, io la Juve non dico che può gettare giù una cifra elevata perché è complicato, attualmente le cifre sono state spese per Blauvic ma cercherà un pochettino di vendere, di fare mercato per raggiungere quelle somme attualmente la situazione è uguale, la Juve qualche giorno fa aveva parlato di 45 milioni di euro di ieri, sono salite a 50 oggi, io non so se faranno una follia da qui a fine maggio, credo che la deadline è fine maggio, non è soltanto un discorso di quello che si legge ai giornali, ripeto, io ho verificato e fondamentalmente c'è l'accelerata della Juve, un abboccamento continuo di questi giorni fra Kezman che il procuratore di Benico Cisavic, che rubinieri va bene, la Juve è fortemente interessata, così come Allegra, Allegra è crescita da Tottenham, sicuramente un grande centrocampista, intelligente, visione di gioco, muscoli, Milinkovic-Savic li racchiude tutti, ribadisco, lui ha interesse a arrivare a Torino, lì c'è il fratello e comunque poi c'è Blauvic, signori si parla di quei 45 milioni di euro, oggi sono 50, la Juve non riesce a spingersi oltre, attualmente a meno che bisognerebbe creare un sacrificio da parte dell'Assemblea dei Soci, ma ripeto, 50 milioni di euro e due contropartite, si parla di Rugani insistentemente e di Artur, eventualmente McKennie, ma ripeto, McKennie dovrebbe andare comunque nella trattativa per Zaniono, quindi è più probabile Rugani e Artur, a meno che la Juve alza il cash e lascia solo Rugani, io e Rugani credo che quei 3 milioni e mezzo di euro, attualmente 5 milioni di euro, tenete presente che un centrale di 1,90, 27 anni ha bisogno comunque di giocare di più, ha voglia di giocare di più, ha detto anche il suo procuratore, a prescindere che possa essere Bauman o Bauman o Rugani, non ci interessa, è un pupillo di Sarri, per 3 milioni e mezzo di euro, chiaramente si decorterebbe anche l'ingaggio, che ne so, 3, 2, 8, 3, da quello che si vocifera, per 4 anni, 27, 4, 31. Artur, Artur chiaramente è un ingaggio un po' più alto, se non sbaglio sui 5, ma anche in quel caso si parla di un decortamento dell'ingaggio, sui 4, 4 è qualche cosa, magari anche arriverebbe ai 4 di immobile per più anni, magari anche un qualche cosino in me, sono piccoli, poi vado tra l'oro, diciamo la lunghezza del contratto e l'ingaggio di riferimento, però ripeto, due giocatori che, due giocatori, uno sicuramente Rugani, l'altro per un centrocampo un pochettino molto molto geometrico, rapido, quindi la Lazio, credo, ha l'idea di creare un restyling con le cessioni di Milinkovic, invece in particolar modo, ma addirittura qualcuno vocifera anche di Luis Alberto, quindi loro con due giocatori ne comprebbero 4-5, e ripeto, proprio perché c'è l'idea di far rimanere Sarri, alla Lazio Sarri ricordiamo che ha una penale con la quale si può liberare, c'è stato un po' di Maretto, un po' di disguidi con, fra Sarri dell'Otito, ma l'Otito ce l'ha con tutti, un pochettino, sono dei, diciamo, dei presidenti vulcanici, ok, ma si vocifera insistentemente, ripeto, che c'è questa forte volontà da parte di l'Otito alla proprietà di creare questo restyling. Signori, Savic ha detto tranquillamente, ha detto, diciamo, con incisività, che vuole andare alla Juve, chiaramente non esiste soltanto Kezman, non esiste soltanto Arrivabene, non esiste soltanto Cherubini o quant'altro, ma c'è l'Otito, l'Otito non su duro, ma si sta parlando di questi 50 milioni di euro, è una contropartita. Questa è la notizia delle ultime, io non so se l'avevi in grado di alzare anche quel cash, ma se considerate che 70-80 milioni di euro vuole l'Otito, la Juve da 45 si è spinta a 50, è vero che ci sono altri 30, ma fondamentalmente se tu metti i 20 di Artur e i 5 di Lugani, ecco, McKennie già potrebbe andare direttamente sui 25-30, la cifra sarebbe completa, ma ripeto, io so che alla Lazio e soprattutto a Stati interessa Rugani. Poi ripeto, io credo che l'Otito vogliono poche contropartite più cash, ma visto la situazione attuale, viste tante piccole cose in cui anche i rinnovi di contratti alla Juve dappertutto, anche all'Inter, il monte in gatti sta abbassando, quindi io credo che si possono fare più scambi che somme cash, a meno che poi non arriva sempre il Manchester City o cavolate per modo di dire il PSG che possono offrire cifre monstre e possono prendersi i giocatori, ok. Ma ripeto, attualmente a me risulta al 70%, vi do anche le percentuali, la Juve è interessata a Milinkovic Savic, Milinkovic Savic rispetto a qualche anno fa era magari interessato, sino oggi lo è molto di più, ha detto io voglio rimanere in Italia, uno e voglio andare alla Juve, due cose che sono diciamo abbastanza emblematiche in quello che è il cervello attuale di Milinkovic Savic, chiaramente ripeto, può accadere anche che Milinkovic Savic rimane alla Lazio, ma sono problemi che poi avrà l'Otito in futuro per vendere, perché è un contratto fino a sbaglio del 2024, due anni di contratto, tenete presente che poi le cifre scendono, il Covid l'ha dimostrato ampiamente come tante cifre sono scese, io ripeto credo che a me risulta, ripeto attualmente, 50 milioni di euro e Rugani più Arthur, oppure magari qualcosa in più e aggiungendoci Rugani, questa è quella che è attualmente la situazione e credo che non vedo tanti spirali in prospettiva futura, ripeto, perché poi magari arriva 70 o 80 milioni di euro del Paris Saint Germain, però vi posso assicurarvi a me risulta da cose che io so, notizie che io ho racimolato, che tranquillamente Milinkovic Savic attualmente è un po' come la situazione di Vlaovic, è deciso a dire di no a tutti, quindi io vedo una nuova situazione Milinkovic, una nuova situazione Vlaovic alla Lazio, ripeto, chiaramente comisso, l'Otito scusate non è comisso, mi rendo conto che è uno che può anche lasciarti fermo un anno lì e perderci, però signori con i tempi che corrono, io non so se tanti casi zarate o tante situazioni similiari al passato, si possono verificare adesso dove credetemi il calcio, se non è scoppiato, poco ci manca, io credo, ripeto, che a fine maggio la deadline sapremo tutto, ma c'è una delle buone possibilità che Milinkovic Savic sia il centrocampista che la Juve cerca, probabilmente, diciamo, associato con Tileman o con Giorginio, perché la Juve, a fianco a un centrocampista con la tipologia, vuole un regista, un interditore, un metodista con i piedi buoni, quindi sta valutando chi aggiungerci, però ripeto, sicuramente, se la Juve deve prendere un solo centrocampista e non più di un, l'idea della Juve è forte, è Milinkovic Savic, l'artista esistenzialista e buona giornata a tutti.